Ciao, sono ancora tutta in fibrillazione dell'ultimo video che ho registrato, dell'ultima intervista che ho registrato con una relatrice del Congresso Spiritual Tools ed è stata un'esperienza fantastica, unica, profonda. E mi ha dato così tanta soddisfazione perché ho potuto fare delle domande anche da tanto, tanto tempo. Volevo fare a una dei più grandi medium italiani, Barbara Amadori. L'ora di registrazione è volata, proprio il tempo è volato. Non mi accorgevo proprio del tempo che passa perché è stata talmente piacevole, ma talmente profonda e interessante che spero con tutto il cuore che si creerano altre occasioni di poterla intervistare. Barbara ha dato degli esercizi per avviarsi sul percorso della medianità, fantastici, esercizi fantastici. Io non ci sarei mai arrivata a questi esercizi e quindi stay ready. Tra poco ci saranno i trailer di questa intervista, ma intanto avevo semplicemente una grandissima voglia di condividere questa mia grandissima gioia per questa conquista di oggi. Un fortissimo abbraccio e una buona giornata.